Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sul canale SNS Crew oggi siamo tornati con una nuova reaction Milan-Juve dopo tanto tempo ma giustamente non ci si poteva vedere in tanto per fare le reaction quindi quando poi ci potrà più avanti torneremo a fare le reaction in 6-7 come vecchi tempi vi invito a lasciare un like e iscrivervi al canale e adesso noi ci vediamo con questa bella partita Milan-Juve l'Inter ha perso contro la Sardoria eeeh madonna ma va ancora? comunque si inizia bene eeeh quindi adesso ci vediamo con questa bella partita vedremo un po' se il Milan riuscirà ad arrondare il suo tinto o sulla Ju riuscirà a recuperare sulle due milanesi spero che è prendere Di Bala a secondo minuto ah 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 di Bala con Di Bala marcatore quindi subito guarda che hai rischiato di portare avanti la Ju dai che giocano con gli scappati di casa dietro ma anche non è che davanti eccolo di no ti au ge le au fortissimo di Samir Abduro di Portogallo madonna sono interessa ma ma lui chi è mai giocare a questi cimini coglione eh au è rigore è rigore è volontario non è vero è rigore è ugualmente non parla chiaro ecco già partiamo male è il rigore e non importa non puoi dire e non importa il tiro no non si vuoi dire è normale che tu esageli scusate il rigore ma la maglietta dopo eh francese del cazzo francese del cazzo cartellino qua eh mi stai sui coglioni francese del cazzo guarda che t'ha da martello francese del cazzo quello era giallo partiamo male si si martello sul sul piede oggi è già grande spero che riscoprino la tipa no 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 per niente avrà difficoltà oggi con chiesa brutta merda anche con delitto no no bisogna menarvi è giusto così è giusto così ma stai tirito c'è pure il nazionale non te lo meriti è giusto così bisogna menare è buono buono dai neanche visti sti cosi eh figlio di bruttana di auge porco dio dell'insalta oh oh oddio no madonna chiesa che cazzo ma che castagna no marco tu niente la più imprecisione madonna minchia donna roma ancora che guarda il palo no non è vero non è vero carnandez è molto offensivo ma non difende bene vai divi girati mamma mia siiii 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 chiesa chiesa ma tu ancora siiii 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 ma che assisti di bala ma che assisti di bala di bala 8 di bala sul battacalcio come minimo guarda guardate ornandez guardate il terzino migliore del mondo guardate il terzino migliore del mondo migliore grandissimo il mio terzino migliore del mondo farà che lettura di me insieme del mio terzino del mondo donna roma 1.93 di centimetri l'ingressione scena lunga con l'italia 3 2 1 sto godendo perché Polucci si è fatto sto godendo sto godendo ah boh si se Calabria fa gol così io mi capo Calabria ha scritto sul collo non è l'impegno ma rimani sempre ma Calabria e a Juventus sono adesso inietudine in poco eh rimani tale quale a due o tre anni fallo fallo figlio di troia ma come fallo è un furtissimo ma fallo non l'ha vista porco dio quello è fallo dai ma non puoi non puoi non puoi Calabria ha segnato ha segnato sinonimo ha segnato calabria ha segnato calabria con quello era fallo calabria che aveva preso il collo noi quali inseriamo è tutto riconosciuto ha segnato calabria caccia risi che penso come farlo scusa questo cazzo vuoi non muore non puoi è vero cazzo scelta fallo andremo come fa guarda no pareggiato ma come porco di dio cazzo 40 no ma si che la puoi annullare mi sembra non puoi annullare è stupido è buona casino casino milanisti milanisti però qual è l'affanno ragazzi allora io mi sembra kickoff 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 che cazzo dirlo non sei framotta c'è la chiesa cosa è stato di bole zazan boom come quello di bala come l'ha fatto a partire da film quella ma guarda che la spezia rompe il campo altra 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 bravo è il pollo, è il pollo, porco dio porco dio, porco dio porco dio, porco dio porco dio, porco dio no, donino ha preso la pollo si, ma non ti cazzare no, non puoi fischiare queste cose se non te lo sei, se non me se non me, se non me se non me mamma mia che giocatore un'altra mi dice si, perché mi si dice vuole di là che bello e mechini quella è yes yes grazie e fai dai con la cascata mechini con il posto di quadrato fai dato 3-1 aiuto venga 3-1 mechini a gennaio non si vince lo scoperto ma Ternandes su Kuruseschi? a gennaio non si vince lo scoperto Ternandes quattro e mezzo è a casa si è rimasto un palo due volte su chiesa un palo è rimasto proprio fermo lì e poi su Kuruseschi adesso Tant'è castagno va a vedere se? ah no che stupido che stupido che stupido che stupido che stupido che stupido che sei che stupido ma si fa me che c***o che pagliacciata c'era tutto a sinistra da solo guarda che stupido intanto l'ha fatto una gioco no no sei stupido che stupido quanto godo che testa di c***o è stata una partita a tratti bella e noiosa a Torino salzata un po' la temperatura con una bella partita direi siamo tornati con una bella partita adesso torneremo con più reaction una tre della Juve Paletto è contento molto contento un like per Paletto è contento e per le bestembe contro te per il canale Simone Paletto se avrei voluto vincere una schedina tu sei contento? no ho perso prima con un X-Men quindi vabbè e io ho un po' corta giù è come un bellissimo ti do il permesso di fare un sì potente no si si fa il love